Pace e bene. Alleluia. Il risorto cammina ancora con noi. Il risorto ci invita a camminare con lui. Il vivente ci vuole accompagnare nelle strade della vita e camminare verso la via e la vita eterna. E' questo lo scopo dell'andare con lui e lasciarsi accompagnare in questo cammino da lui. Marco, a differenza degli altri evangelisti, al capitolo 16, versetto 9-15, ci racconta dell'incontro di Gesù prima a Maria di Magdala e poi dagli altri discepoli. Ecco, ascoltiamo le sue parole. Risuscitato al mattino, nel primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato sette demoni. Questa andò a annunziarla ai suoi discepoli che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo di ciò, apparve a due, a due di loro sotto un altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anche essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li improverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Ecco, Marco è molto più sintetico e molto più breve nel suo racconto dell'incontro del risorto con i suoi amici. Quindi questa confessione, questa testimonianza di Maria di Magdala che incontra, dei due di Emmaus che incontrano Gesù, degli undici che sono chiusi nel cenacolo, ecco, trova sempre il cuore di chi ascolta chiuso a non credere, sigillato a non credere, chiuso alla luce della verità. E Gesù li rimprovera. Li rimprovera per la incredulità e per la durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscituato. E' bella questa, possiamo dire, questa posizione di Gesù da parte degli apostoli, delle apostola, dell'apostola, delle apostole, degli apostoli che annunciano a nome suo e non è accolto. Gesù rimprovera. Perché? Perché la fede è risposta a un annuncio, è risposta per un'esperienza. Se il cuore è indurito, ma non ascolta la testimonianza di chi ha incontrato Gesù, è difficile incontrare Gesù, è difficile vivere con lui, è difficile poterlo accogliere nella propria vita. Perché? Perché il cuore è duro, il cuore ha chiuso le porte all'incontro, il cuore ha sigillato gli occhi alla speranza, il cuore è chiuso all'incontro con la speranza. Quindi Marco racconta molto brevemente, non si dilunga molto su questi racconti della Resurrezione, però lo fa e lo fa in un modo sintetico. La centralità del suo Vangelo è proprio credere alla Resurrezione e la Resurrezione è un evento personale, è una scelta di fede e di libertà di cuore. Quindi questa libertà di cuore, questa scelta di fede, permette di vivere questa esperienza e testimoniare questa esperienza. Incontro con Gesù di Magdala, incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus, incontro con Gesù e i suoi discepoli. Quali di questi personaggi siamo noi? Quali di questi personaggi noi possiamo ritrovarci in questo momento della nostra vita? Siamo Maria di Magdala, che va alla tomba, le ha ancora gli occhi bassi e non riesce a vederlo? O Maria di Magdala, che va a annuncia con l'entusiasmo dell'esperienza? Siamo i due di Emmaus, col capochino, col cuore triste, che si vogliono allontanare dalla città di Gerusalemme, dove gli eventi hanno ferito la speranza, hanno ucciso la speranza e vanno verso la campagna per allontanarsi anche fisicamente da questa grande delusione delle loro attese, dei loro sogni di gloria e di grandezza con Gesù. E vanno verso Emmaus e Gesù li incontra. Ma anche loro vanno e ritornano ad annunciare chi siamo di questi due di Emmaus, la prima fase o la seconda fase. Oppure siamo gli undici, intimoriti, impauriti, chiusi, senza coraggio, che fanno fatica anche ad accogliere Gesù quando entra a porte chiuse e porta la pace nel cuore. Quali di questi personaggi siamo noi? La durezza dei cuori. Siamo duri? Siamo aperti, pronti? Siamo accoglienti? O rifiutiamo? Abbiamo le porte spalancate? O il cuore è chiuso? Certo è che la parola di Dio si diffonde grazie alla libertà dei cuori aperti, alla libertà di accogliere il messaggio, alla libertà di vivere questo messaggio di vita, di accogliere questo messaggio di resurrezione e di portarlo agli altri. Allora leggiamola alla storia e alla luce della storia, della storia della salvezza che è un annuncio pasquale e che gli apostoli ci hanno trasmesso e hanno testimoniato concretamente con una vita risorta con Cristo e come Cristo. Siamo disposti ad essere questi amici? La resurrezione è un fatto vero, è reale, è storico. Gesù è davvero risorto ed è vivo e i neofiti in questa settimana, proprio oggi, al termine di questa settimana, deponevano il loro abito bianco che avevano portato tutta la settimana dopo il battesimo nella notte di Pasqua. Perché? Perché avevano accolto finalmente nella loro vita Gesù risorto, il vivente nella propria vita e ora quell'abito che era un segno diventa un abitus di vita. quindi uno stile di vita che diventa testimonianza verso i fratelli, una scelta di vita. Chi siamo noi? Siamo disposti ad essere i neofiti tutti i giorni della nostra vita che non solo indossano l'abito esterno, ma indossano l'abito della fede nella propria vita e sanno essere luminosi come la fede è luminosa in tutte le situazioni in cui la vita ci trova e in cui la vita spesso ci porta, ma che Gesù viene, cammina, non ci lascia mai soli in qualunque situazione noi ci troviamo a vivere. A noi la scelta. Gesù si rivela solo a chi poi può inviare in missione, a chi lo ama, non ai curiosi, a chi è il cuore attento, a chi è disponibile al servizio, a chi è capace di trasformarsi in amore e in testimonianza. Il Vangelo non è curiosità, il Vangelo è uno stile di vita. Gesù si rivela a chi è disposto a cogliere questo messaggio di vita e a portare speranza, gioia e pace ai propri fratelli in attesa di un annuncio di pace, di gioia e di speranza. Pace e ogni bene. Pace e ogni bene.